Fammi un sì. Ale, fammi un sì. Ale, fammi un sì. Eh sì, che vedevo fare? Ma dunque il sì, il sì. Ah, il sì della piaggio. Ma tu c'hai visto con la chitarra, fattelo dire. Togli la tappa in mezzo. No, no, niente. La lasciamo tardare anche sì, allora andiamo ancora. Vai in là. Semplice di così. Ale, vai in là. Ale, vai in là. È finito il palco. Ale, ma tu sei proprio tutto scemo. Allora, devi andare in là, ma qua, hai capito? In là, ma qua. In là, ma qua. In là, ma qua. In là, ma qua. In là, ma qua, stati fermo. Allora, andiamo all'ultimo accordo che c'è. Proprio la cosa più banale che ci possa essere. Tocca il mezzo. No, almeno... No, no, no. Assolutamente eravamo d'accordo che... No, no, d'accordo. No, ma ne devi toberto il mezzo. No, ma ne devi toccare lì. Tocca il mezzo. Signori, ero me. Mi voce. Mi voce. Mi voce. Mi voce. Signori e signori, Wayne is on Chesterfield. Ho la voglia di presentarvi qui stasera al Teatro Prime. Alessio Lola con la canzone Malatemna. Quando vai a partire dovrebbe crescere, grazie. S'ha visto e fatta nato, chi l'ha fatta a me. L'hai fatta proprio tu questa canzone. Poi cambia. Sono una messa accisa, e cosa avrebbe che... Non me le ricordo le parole. Perché in coppa è sta terra, femmine con macchie. Sì, 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 ma... Non ce ne sta per nome, oneste con mamme. Diversa prova. Poi cambia. Femmina, mia dolce caramica, su dammi la guapocca, non è così, non è così. Femmina, se c'è di miei milioni, attacca da stilano, non è così. E' così la canzone. Femmina, l'amor mi rende pazzo. Si crede. Attacca da stilano, non è così. Di profumati fiori. E' così la canzone. Femmina, tu sei la grande. E' così la canzone. E' così la canzone. farvi anche sudare un po' visto che qua dentro è freschino, quindi almeno vi siete divertiti, vi siete scaldati e adesso pronti perché la musica va avanti. Io come gentiluomo e tu come una scuola, mentre fuori dalla finestra si azzevono soltanto i tuoi. Certo di tempestà, sarà che i nostri siamo più in alto, lontanissimo tempo, ma i nostri, da qui sedano, soltanto i tuoi mavoto l'anno segreto, tutti vogliono tu e poi accoggersi. Io non faremo come l'angelo, questi sonni saranno sempre, sempre. Io non faremo come l'angelo, senza i nostri, Io non faremo come l'angelo, senza i nostri, che passare a di temuti ringraziamenti. Il primo fra tutti a voi e al vostro calore, grazie. e poi ovviamente ovviamente io credo ai ragazzi adesso vi raggiungo il mio sul palco perché volevo passare il mio sul palco tutti i ragazzi della selezione giornali per i giovani tutti coloro che collaborano con questa associazione che vorremmo ringraziare qua con noi sul palco intanto ringrazio tutti coloro che voi non avete visto ma che hanno lavorato tantissimo da dietro le quinte la regia un applauso alla regia che hanno fatto il mio loro micro video gli sponsor e vorrei entrare gli sponsor di raggiungo il mio sul palco e poi il servizio catering chi è occupato delle foto chi dei video insomma questo spettacolo è stata una macchina perfetta che ovviamente speriamo vi abbia iniziato con tutta questa grande musica che vi abbiamo proposto eccoli qua che salgono un applauso a loro io vi ricordo oltremmo si ritornate la serata perché tutto chi è che voi che avete fatto questa sera l'avete fatto per noi ecco qua ringrazio 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 appunto l'associazione giovani per i giovani nella persona della professoressa di raluma che è salita qua sul palco con noi prima gli sponsor la giovani internazionale la job solution la band la band alle tastiere la notte la viola la vitale il servizio di agostino la batteria Giovanni Cassari al basso l'auto più organizzio e poi Francesca Sampadino dove sei Francesca? ecco qua un applauso ebbene andiamo avanti la nostra prima grande ospite agenzista incredibile signori Susanna Spigoli e poi e poi colui che su questo palco ha cantato in una maniera superba gli hanno iniziati ma io vi assicuro che dietro a questo spettacolo c'è un lavoro lunghissimo fatigliosissimo e tanto di questo lavoro l'ha fatto lui quindi signori io vi chiedo un grandissimo applauso per il direttore artistico di questa manifestazione Marcel Basso e poi voglio rappresentare il cuore pulsante ha fatto di tutto questa sera ha parlato ha cantato ha recitato ha presentato insomma signori un grandissimo applauso per l'organizzatrice del cuore di musica Patrizia sull'organizzati un grandissimo applauso dal cuore di musica un grandissimo applauso Grazie a tutti Grazie a tutti